Ieri pomeriggio, nella sala del Convento dei Minimi, si è svolta la conferenza pubblica per discutere delle finalità sociali raggiunte del Comitato al Puente per Carlo, che è stato sciolto in presenza dello stesso Carlo Iannuzzi. Questo è lo stesso posto in cui si era formato il Comitato il 19 dicembre 2015, quando si era presentato alla stampa e alla comunità, per volontà di alcuni amici di Carlo Iannuzzi, per aiutare il giovane ingegnere rimasto gravemente ferito dopo un'aggressione a scopo di rapina nella notte del 27 novembre 2015, in una strada di Buenos Aires, mentre rincasava. È stata presentata l'opportunità di tracciare un bilancio dell'attività svolta e di rendicontare la campagna di raccolta fondi con cui è stato possibile sostenere le cure mediche di Carlo e la dovuta assistenza da parte della sua famiglia. Il totale delle somme collezionate ammonta 75.816 euro, di cui 20.000 da Regione Carabria e al Comune di Rocella 2.000 e quasi 55.000 euro maturati, grazie alla solidarietà dal basso profusa da persone, gruppi, associazioni e movimenti in Italia e all'estero. Al tavolo dei relatori, davanti a una platea a tratti commossa ma soprattutto felice e festante, alcuni dei promotori del comitato, dal portavoce Angelo Nizza, che ha introdotto i lavori, al responsabile dei conti Tommaso Daunisi, al presidente Francesco Ieraci, con la preziosa collaborazione di Martina Raschillà. Sì, il bilancio del comitato è certamente positivo. Abbiamo raccolto 76.000 euro, siamo riusciti a pagare l'ospedale argentino, abbiamo sostenuto la famiglia Iannuzzi nell'opera di assistenza e cura nei confronti di Carlo e abbiamo organizzato il rimpatrio di Carlo. Adesso vi è un residuo che il comitato ha deciso di devolvere in parte al centro di recupero neurologico di Locri per l'acquisto di una barella doccia e di un elettrocardiografo. A questa spesa parteciperà anche l'ASD Calabria Fit Walking e l'altra parte del residuo sarà devoluta alla protezione civile di Roccella Ionica per l'acquisto di attrezzature sportive da dare in uso al centro migranti della città. So che ringraziare tutti quanti è enorme perché siete davvero tantissimi e quindi è quasi proibitivo, però ci tengo che voi riceviate di cuore il mio messaggio perché vi voglio ringraziare tutti quanti, uno a uno. Grazie mille ragazzi, grazie davvero. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti.